Nasce la nuova azienda del settore della logistica e dei carrelli elevatori. È tuttologistica.it.srl dall'esperienza della Granata Group e di Transpallet Italia. Offrirà a 360 gradi servizi e consulenza per il settore della logistica, produzione di scaffalature, noleggio vendita di carrelli elevatori e quant'altro. Contattatemi, io sono Giuseppe Santomastase, responsabile commerciale dell'azienda.